Dopo il deludente stop interno con l'Udinese, il Pescara è al lavoro da ieri per preparare il match dell'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo contro l'Atalanta di domenica prossima. Zeman si appresta a varare un altro avvicinamento forzato nell'undici base, visto che ieri il giudice sportivo ha fermato per una giornata Alessandro Bruno. Potrebbe toccare a Gaston Brugman, caduto quasi nel dimenticatoio nella gestione del Boemo. Per l'Uruguayano appena una manciata di minuti a Genova e poi panchina completa nelle altre tre gare. I problemi fisici del giocatore solo in parte, spiegano la scelta. Zeman ha detto che vuole giocatori più pronti alla battaglia e allora nel ruolo di metodista non è escluso che venga inserito Salei Montari in gol domenica scorsa e in crescita di condizione. Il centrocampista ganese potrebbe ambire anche ad un posto di mezzala, al posto di un Verre che sembra avere già la testa alla Sampdoria. Insomma, se per Montari un posto da titolare sembra certo, molto basse sono le chance per Kubas. In attacco la buona notizia è il rientro in gruppo di Baibach che ha le caratteristiche per essere saltato dal gioco di Zeman. Il Boemo dovrà valutare se rischiarlo dal primo minuto, altrimenti spazio al tridente anti-udinese Cerri Mitrizza ben alì, visto che Pepe resta in box e che Caprari difficilmente potrà recuperare. Per la difesa da valutare Stendardo, mentre Campagnaro è tornato in gruppo. Oggi doppia seduta per il Delfino che domenica si ritroverà di fronte alla più grossa sorpresa di questa Serie A. Resta la curiosità di verificare come l'Atalanta, guidata dall'ex capitano biancazzurro Gasperini, reagirà alla disfatta contro l'Inter se sarà ancora stordita dai sette gol inopinatamente incassati o se prevarrà la voglia di riscatto degli Eurobici che per la circostanza saranno privi di Kurtic squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare l'ex bolognese Mugnier. Intanto il Delfino muove i primi passi verso la prossima stagione, quasi certamente in cadetteria, e ha messo le mani sul centrocampista del Bassano, Mattia Proietti, il quale, come l'attaccante della Samb Mancuso, è in scadenza di contratto e arriverebbe in rival adriatico a parametro zero. Da questa settimana poi si allenano con la prima squadra il giovane senegalese Mamadou Koulibaly e il baby classe 2000 canadese di Toronto Michael Thornton in prova con i biancazzurri.